Non lo vedevano da Natale e non rispondeva al telefono da giorni, poi oggi Romano Gasparoni di 83 anni è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione in via Garibaldi nel centro storico di Fano. A dare l'allarme è stato l'amministratore di condominio dopo che i vicini di casa avevano iniziato a preoccuparsi per l'anziano. Questa mattina, poco dopo le 9.30, i vigili del fuoco sono intervenuti da via Rusticucci e mediante la scala Ganci hanno raggiunto il terrazzo del quinto piano, si sono introdotti all'interno della casa e hanno ritrovato il corpo dell'uomo nel soggiorno, a terra, dietro la porta. Si ipotizza una morte avvenuta per cause naturali, ma l'autorità giudiziaria ha disposto ulteriori accertamenti medico-legali. Sul posto i carabinieri di Fano comandati da Antonino Barrasso.